buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv iniziamo insieme una settimana che ci porterà verso il natale quindi una settimana ancora più di calore per quanto riguarda le prossime festività e noi come sempre siamo pronti questa mattina a dare un'occhiata ai giornali passando per l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi ecco qui il santo si tratta di san graziano di tur che visse nel terzo secolo fu vescovo vescovo evangelizzatore della gaglia e fondò la diocesi di tur che governò pensate per 50 anni passiamo ora alle previsioni del tempo tempo buono tempo buono probabilmente anche per i prossimi giorni sulla nostra regione vediamo che il tempo sarà stabile solleggiato in tutto il settore la ventilazione è debole ma sarà anche variabile temperature in aumento nei valori massimi 3 la minima 13 la massima i venti sulle coste spireranno da ovest nord ovest nell'interno da solo nord ovest il sole solgerà questa mattina alle 7 e 35 e tramonterà alle 16 e 30 il mare è leggermente mosso ed ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dalla prima pagina del resto del carlino eccola qua la sintesi delle notizie sulla regione marche vediamo che per quanto riguarda la provincia di pesaro urbino si parla di soldi di soldi che sono arrivati dallo stato e anche dalla regione marche per i danni sulla alluvione alluvione del 2022 arrivano 130 milioni ma cantiano una delle località più colpite nel nostro entoterra insorge perché a lui sono arrivate le briciole vediamo anche le altre notizie lievitano ancora i costi per la ristrutturazione del vecchio palace a pesaro mentre nell'entroterra da barchi e poi orciano e via dicendo ha avuto un grande successo la corsa dei babbi natale 300 i partecipanti tutti indossanti il bellissimo costume rosso e vediamo anche la le notizie di cronaca che si verificano che vengono risaltate in ancona abbiamo uno scontro in campo purtroppo gravi danni per un diciannovenne che ha partecipato a una partita di rugby mentre a falconara è stato trovato con la droga in casa dentro le canaline elettriche addirittura erano nascosto molto bene ma gli inquirenti sono riusciti a trovarle a fabbiano commesse in rialzo alle cartiere sparisce la cig ascoli e fermo si invaghisce di una tedesca e la perseguita è stato arrestato per stalking mentre a fermo c'è un boom per quanto riguarda le vaccinazioni del covid straordinario open day in farmacia e poi fiera di natale boom di presenze ma gli acquisti però non decollano c'è molta gente molta gente attratta dall'atmosfera delle luci della fantasmagoria dei colori che caratterizzano il natale però le risorse economiche sono molto molto scarse ad tascoli si schianta con il guardrail sulla salaria purtroppo è morto un biker di 50 anni a macerata ancora notizie di cronaca razzie nei locali in centro scoperti e denunciate una coppia bonnie e clyde poggio san vecino esce di strada in moto e vola in un canalone centauro a torrette all'ospedale di torrette a civita nova urla botte vandalismi note da incubo intorno alla discoteca questo è un po' per quanto riguarda l'esame il sunto delle notizie che poi vengono evidenziate vengono particolareggiate all'interno del giornale giornale che noi apriamo per vedere soprattutto le notizie della provincia di pesaro urbino alluvione 2022 arrivano 130 milioni però cantiano protesta a noi solo le briciole ed è proprio il sindaco piccini che fa il paragone su quanto è stato assegnato alle altre località pensate che pergola è destinataria di 2 milioni di 12 12 milioni e mezzo 8 milioni avrà pesaro per la fossa di espansione del foglia e poi altre località avranno 2 2 milioni ma comunque cantiano è veramente avuto danni per 50 milioni di euro e ha soltanto 2 milioni ecco i fondi dunque stanziati dallo stato dalla regione marchi la regione marchi ha contribuito a questa cifra di 130 milioni con 25 milioni del suo bilancio una cifra che viene ripartita appunto sui comuni alluvionati un fiume di fango e detriti che travolse cantiano parte di pergola cagli serra santabondio e frontone il decreto è stato firmato l'altro ieri dal presidente del regione marchi francesco acquaroli e in dettaglio la suddivisione vede 12 milioni e mezzo a pergola necessari per interventi sul fiume cesano e sulle quartiere delle tinte lavori per oltre 2 milioni di euro anche a cagli cantiano frontone e serra santabondio anche pesero è interessata dal bando un budget che ha assegnato 8 milioni di euro per la realizzazione come ho detto della cassa di espansione del foglia ed ora diamo un'occhiata invece ai soldi che servono per completare i lavori del vecchio palace questa realizzazione che mangia soldi a ripetizione perché ancora non si riesce arrivare alla fine ma quanto ci costi dice il resto del carlino altro milione e mezzo di ritocchi di spesa e a questo punto insorge la consigliera giulia marchionni che ha il fondato sospetto così si evidenzia che la sticella non sia ancora arrivata in cima ma che cosa accade è accaduto che la ditta che ha fatto richiesta di questo aumento ha chiesto riservatezza sulle riserve che ha presentato per avere l'aumento ma allora dice la consigliera marchionni noi consiglieri comunali che dobbiamo fare il controllo sulle spese del comune come facciamo se poi vige il problema della riservatezza e non possiamo dunque verificare che cosa è accaduto un punto interrogativo che al momento attende risposta vediamo ancora notizie e parliamo della gioiosa corsa dei babbi natale che si è dilungata da barchi piagge orciano e san giorgio di pesaro ritornano per la sedicesima volta gli 11 chilometri veri molti hanno gli hanno percorsi correndo altri camminando comunque è stata una bellissima passeggiata una bellissima iniziativa ieri il tempo era anche buono vince dunque la solidarietà con la quota di iscrizione di 7 euro potranno essere beneficati dunque più di 300 santa claus vediamo qui la foto bella scattata con questa bella macchia di colore che contrasta con il cielo azzurro e il sorriso della solidarietà è l'imprimatur di questa iniziativa e poi sabato mattina si è presentato a fano il progetto del parco dei passeggi un progetto che è stato realizzato sulle istanze sulle indicazioni del consiglio dei bambini di due anni fa ed ora è stato messo in maniera tecnica sulla carta da due professionisti ed è un progetto molto bello innovativo interessante che darà la possibilità di frequentare questo parco al momento un po così abbandonato non dico degradato da tanti tanti bambini che potranno divertirsi perché troveranno tante animazioni tante occasioni per così giocare insieme in tranquillità in sicurezza quattro zone tematiche l'area teatro quella dello studio picnic l'area verde e quella dei giochi sonori ci sarà anche un'area dedicata alla musica sono veramente interessanti le soluzioni tecniche che hanno individuato i professionisti gli architetti sugli input dei bambini l'intento ha detto l'assessora ai lavori pubblici barbara brunori presentando il progetto è quella di modificare gli ingressi che diventeranno quattro creando degli spazi salvagente per mettere in sicurezza tutti coloro che frequentano il parco e saranno ingressi che daranno ragione con la loro monumentalità anche alla caratteristica rinnovata del parco dei passeggi che verrà definito d'ora in avanti il parco delle meraviglie e vediamo quando inizieranno i lavori e poi quando saranno completati veramente le modifiche che saranno introdotte passiamo ad ancona parliamo di cronaca qui vediamo l'articolo che ci riferisce sull'incidente che è avvenuto nella partita di rugby e dove in uno scontro di gioco un 19enne ha ricevuto un colpo ed è caduto rovinosamente nel manto erboso il ragazzo sembrava inizialmente in stato confusionale a causa di un forte trauma cranico riportato e quindi ha ricevuto tutta l'assistenza necessaria qua vediamo invece la spedizione dei carabinieri in merito al traffico di droga a i cani contro i militari droga coppia arrestata questo è accaduto a falconara dieci carabinieri hanno circondato la casa dopo che i cani dei cinofoli avevano subodorato che lì dentro c'era dello stupefacente era nascosto anche dietro i fili elettrici ma il fiuto dei cani ha individuato il nascondiglio e quando i militari una decina in tutto hanno iniziato a circondare la casa il il marito perché c'è marito e moglie quindi la coppia che faceva questo traffico ha urlato alla moglie e poi ha aizzato il suo cane contro quello dei militari ma poi i militari hanno avuto ragione a macerata presa la coppia dei furti in centro si muoveva con uno scooter rubato denunciati un uomo e una donna di 40 anni senza fissa dimora diversi i locali finiti nel marino nel mirino sono stati identificati denunciati per furto e tentato furto aggravati in concorso i due ladri che nei giorni scorsi hanno messo nel mirino una serie di locali del centro storico di macerata quindi sono stati assicurati alla giustizia questo per quanto riguarda il resto del carlino vediamo un'occhiata anche le notizie di pesaro dove abbiamo ancora la notizia di un ventenne che cade dal quarto piano ed è gravissimo è caduto da una finestra di casa posta al quarto piano di un palazzo di via baregnani ora un ragazzo di vent'anni è ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione a torrette di ancora e vi ricordate quello studente che nei giorni scorsi era caduto dal tetto di una di una palazzina piuttosto alta e ugualmente anche lui è stato ricoverato questo dicevo per quanto riguarda il resto del carlino ora diamo un'occhiata anche al corriere adriatico sulla pagina di fanu abbiamo una intervista al sindaco massimo seri per quanto riguarda la situazione politica in vista delle elezioni amministrative del giugno del 2024 centro-sinistra troppi candidati si proporrà anche cora fattori un quarto candidato all'interno del centro-sinistra queste sono delle supposizioni ancora questa candidatura non è stata formalizzata ma sono già due personaggi che la indicano il sindaco massimo seri e poi è stato anche il candidato del pd cristian fanesi al momento sono tre i candidati che sono sorti all'interno del centro-sinistra samuele mascarin lo ha fatto per primo lo ha fatto da tempo poi e in questi ultimi giorni è sorta la candidatura di cristian fanesi dal parte del partito democratico e poi quella del civismo da parte del civismo etienne lucarelli l'attuale assessore al turismo centro-sinistra troppi candidati e questa è la prima domanda che è stata fatta al sindaco di fanu il centro-sinistra si sta affollando di papabili in questi ultimi giorni ebbene il sindaco risponde dicendo che la cosa non lo stupisce perché noi veniamo da un decennio di amministrazione piuttosto intenso e che ha fatto questa esperienza il sindaco dice è naturale che poi si proponga per fare il sindaco perché ha maturato sia l'esperienza che la competenza per guidare la città ci sono ancora poi altre domande che si rivolgono a massimo seri soprattutto da che parte sta lui ovviamente lui sta si dice che è super partes e questo ovviamente deve un po' condurre equilibrare il suo comportamento però insomma il suo cuore batte sul civismo perché ci sono anche due liste che portano il suo nome quindi e sono sue creature e quindi c'è una specie di diciamo così supporto al candidato del civismo che è etienne lutarelli ma soprattutto oggi c'è un'iniziativa importante perché il centro-sinistra si riunirà questa sera in una riunione per decidere se ci sarà un unico candidato di tutta la coalizione oppure si dovrà procedere alle primarie e poi c'è ancora il problema da risolvere per allargare la maggioranza ai progressisti e questo ancora non si è risolto questo problema tesoretto di fine anno per società e associazioni sportive il comune ha approvato benefici per 30 sodalizi 35 mila euro che sono stati spartiti un po' a tutte le società il più grosso il più grosso contributo di 2.500 euro va all'aurora società aurora ginnastica per attività di interesse federale poi abbiamo 2.000 euro a testa invece per l'alma juventus ciclismo sempre per attività federali e nel contesto della stessa disciplina anche alla centina loronese ciclismo per la sua due giorni oltre alla bocciofila san cristofaro per il trofeo dell'esippo ai carissimi 2016 per il torneo giocando con il lesippo poi ancora la virtus alla ams racing e insomma poi ancora ad altre società e qui c'è un po' l'elenco delle società maggiori che hanno ricevuto il contributo più alto quindi un beneficio a fine anno e qua vediamo gli auguri che si sono scambiati e gli appartenenti e i dirigenti della confcommercio nella sede di Fano ebbene una occasione questa per fare un po' un consuntivo dell'attività condotta della situazione del turismo in questo 2023 un anno alternativo un anno dove ci sono stati grandi presenze ma anche momenti di stasi giugno soprattutto e soprattutto anche il periodo conseguente all'oluvione della Romagna che ha determinato effetti non certo belli anche nel nostro territorio la pala del Perugino e i mercatini nei borghi sono una forte fonte di attrazione del turismo in questo periodo di bassa stagione e poi anche tutta la scenografia luminosa della chiesa di San Francesco la via dei presepi che rappresentano una bella novità del nostro territorio ma il nostro territorio funziona perché offre una offerta composita Fano magari è il centro dove la gente passa la notte con gli alberghi e poi visita un po' tutto il territorio i borghi dove è stato allestito il programma il progetto del Natale che non ti aspetti borghi che poi hanno le loro attrattive di carattere storico, ambientale, artistico e quindi sono veramente belli per conto suo oltre alle iniziative di Natale e poi insomma una stagione secondo quello che ha annunciato il presidente della Feder Alberghi Luciano Cecchini una attrattiva per quanto riguarda la qualificazione delle stesse strutture turistiche che quest'anno è stata incentivata e intanto riapre la Contessa finalmente riapre la Contessa e quindi i turisti Umbri potranno visitare il nostro territorio più agevolmente prima erano dirottati un po' più verso il sud delle Marche riapre la Contessa dopo nove mesi sollievo per imprese e residenti questa mattina alle 10 riapre la circolazione presenti le autorità regionali, marchigiane e Umbre dunque oggi riapre la Contessa a distanza di nove mesi da quando è stata chiusa per i lavori sul viodotto nei pressi della Galleria un vero sospiro di sollievo per i comuni interessati e per gli operatori della zona che hanno sofferto in modo particolare lo stop alla normale viabilità è certo che per andare a Gubbio oppure nelle altre località dell'Umbria passando per il passo della Scheggia è un percorso molto più tortuoso molto più disagevole rispetto a quello della Contessa la cerimonia di apertura del tratto stradale avrà inizio oggi alle ore 10 e vi parteciperanno il Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei l'Assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecca l'Assessore alle infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli e ovviamente il Sindaco del Comune di Gubbio Filippo Maria Stirati e il responsabile ANAS dell'Umbria Lamberto Nicola Nibbi e poi ci sono anche altre personalità la ripresa della viabilità sulla Contessa permetterà di ristabilire i collegamenti tra Marche e Umbria fino ad ora garantiti solo dal transito attraverso il passo della Scheggia e di interrompere quell'isolamento che imprese, operatori, residenti hanno subito per tutto questo periodo con danni che si sono veramente resi sensibili anche dal punto di vista economico e intanto cominciano i lavori in tutte le zone colpite dall'alluvione intitola oggi il Corriere Adriatico interventi strutturali nelle terre del Burano, Cesano, Cenisco, Misa e Nevole e speriamo che il 2024 preservi almeno il nostro territorio da queste intemperanze del clima che nel 2023 ha causato molti molti danni a Senigallia sono in arrivo due nuovi autovelox attenzione dunque e dalle multe si è ricavato un tesoretto di 2 milioni e 300 mila euro i nuovi rilevatori, le nuove telecamere verranno installate sull'Arceviese e sulla Corinaldese aumentata la previsione delle sanzioni perché ovviamente qualcuno incapperà come non osservanza del limite di velocità in queste due strade dunque in arrivo due autovelox fissi uno sull'Arceviese e l'altro sulla Corinaldese saranno segnalati dove sono però ovviamente le segnalazioni non bastano e lo sappiamo benissimo si deve a loro l'aumento della previsione di multe prevista nel bilancio di previsione di Senigallia 2024-2026 deliberato dalla Giunta e rispetto a 1.900.000 euro che era la previsione di quest'anno il prossimo anno appunto si pensa di ricavare 2 milioni e 300 mila euro quindi veramente più liquidità nelle casse del Comune la politica deve saper coinvolgere i giovani dal faccia a faccia tra vescovo e amministratori dei Comuni la prima priorità della politica e questa attenzione dei giovani costituisce uno dei principi che vengono più promulgati durante la campagna elettorale che ormai è in atto in tutti i centri della Regione passiamo ora alla pagina di Pesaro dove si fa un po' un consuntivo del weekend per quanto il weekend natalizio per quanto riguarda le spese l'attività del commercio gli eventi che si stanno susseguendo in questo periodo tante attività apri e chiudi ma il centro si scommette sul commercio che resiste il saldo dei negozi leggermente inattivo la sorpresa delle strade delle botteghe un'iniziativa che sembra che a Pesaro funzioni in maniera evidente dalla Rocca alla San Giovanni un avvilente biglietto di visita e una critica che sta elevando fratelli d'Italia che elenca tutto quello che non va e prima di chiudere voglio segnalarvi questo articolo sul Corriere Adriatico Candelara e i borghi abbandonati il prato della Chiesa rifugio di Volpi anche qui bisogna correre ai ripari e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci Grazie a tutti